Buongiorno carissimi, bentrovati in questa festa di Santa Teresa Benedetta della Croce. Oggi essendo anche lunedì della diciannovesima settimana al tempo ordinario, però essendo 9 agosto, ecco la chiesa ci fa guardare a questa santa che è al secolo che si chiamava Edith Stein. Nacque il 12 ottobre 1891 a Bleslavia in Germania, ultima di 11 figli da famiglia israelita. Lascia dopo la fede ebraica per diventare atea, addirittura abbraccia quegli studi filosofici che la portano a essere, a approfondire la versione fenomenologica di Edmund Arssel e però nel suo cammin di vita lesse la biografia di Santa Teresa d'Avila e disse questa è la verità da sempre. Il primo gennaio 1922 chiese il battesimo, entrò nel monastero carmelitano di Colonia, professò i voti il 14 settembre 1936. Essendo anche ebrea convertita al cristianesimo, ma rimanendo in quella radice, fu presa e portata, scoperta anche, arrestata, torturata, e deportata ad Auschwitz-Birkenau in Polonia e uccisa nelle camere a gas. Papa Giovanni Paolo II l'ha innalzata agli onori degli altari nel 1998 e il primo ottobre del 99 insieme a Santa Caterina da Siena e Santa Brigida di Svezia viene nominata patrona d'Europa. La liturgia della parola di oggi, eccoci, presenta un bravo tratto dal libro del profeta Osea, siamo al capitolo 2, versetti 16, 17, 21 e 22, è quel condurre il popolo nel deserto per parlare al suo cuore. La mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Il termine, ecco, il connubio fra sposo e sposa, ecco, è presente nella Sacra Scrittura. Gesù è lo sposo della sposa che era a Chiesa. E nel brano del Vangelo di oggi siamo al capitolo 25 di Matteo, i primi 13 versetti. Questo sposo che arriva, ma alcune vergini, dieci ne erano, cinque stolte e cinque sagge, come comune denominatore avevano di incontrare lo sposo, però cinque avevano preso olio per le riserve delle lampade, cinque invece no. E quelle cinque perdettero tempo nell'andare a comprare olio e quando tornarono la porta fu chiusa, bussarono, ma lo sposo disse, in verità io vi dico, non vi conosco. Bene, la nostra fede si è un dono di Dio, un'iniziativa di Dio per la nostra vita, risposta da parte nostra, però è vero che va sempre alimentata. Santa Teresa Benedetta della Croce, diventata poi suora carmelitana, si è consagrata interamente al Cristo perché ha scoperto la persona più preziosa, la perla più preziosa della sua esistenza. E allora c'è stato quel cambiamento che l'ha portata a vivere eternamente felice. Bene, allora preghiamo il Signore perché ci aiuti a desiderare quella felicità eterna, desiderare sempre quella fede, quella lampada, quel olio da mettere nella nostra lampada, aumentare la nostra fede per attendere il ritorno dello sposo ed entrare così nella stanza nuziale. Buona giornata a tutti e buono nomastico a tutti coloro che portano il nome Teresa e Benedetta. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata a tutti.